Questo poteva raccontare il fatto che se non c'è niente da capire io torno nel libero, nella libertà, nella libertà totale, anything goes. Chi più di me può dirlo, fa ciò che vuole, sarà la tua legge. Non c'è nulla da comprendere. E se non fosse così però, ecco qui, bisogna togliere, diciamo, lo splittato, la scissione dell'individuo in se stesso. Perché intanto la seconda parte, la seconda ipotesi, la seconda spiegazione del sogno, che non è spiegazione, cioè io non potendo farvi imporgerla, lo stanno dicendo che lo diventano interventi a 30 anni fa. La seconda parte però, in qualsiasi modo che si intenda, sembra avere una connotazione più orientale, diciamo, ma sempre, nel senso che dicevo all'inizio, il più orientale è una dimensione mentale, più che geografica, più che geopolitica, diciamo. Ma questo perché, mentre, diciamo, parlando veramente molto peschetta, e qui non si è fatto a lungo, però, ora, credo che questo si può fare, nella logica dell'Oriente, dove penso in maniere diverse all'India, all'India, alla Cina, al Giappone, l'idea del nulla, che nell'Oriente ha sempre assunto diversi nomi, però sembra, diciamo, molto frequente. Non è come per l'Occidente. L'Occidente, nulla, salvo eccezioni, che pure ci sono state, hanno un certo peso, che in generale, sembra che il nulla sia stato visto, penso, per un caso tipico, alla psicologia delle scienze filosofiche di Hegel, come un qualcosa che non abbia ragione di essere, in qualche modo. Ecco, perché comunque, il nulla è il niente, la negazione. Come fai a pensare a nulla? Alcuni dicono che non si può proprio pensare a nulla, questa è una delle tante posizioni, in qualche modo, non si può pensare a nulla, non c'è niente da comprendere. Ecco, questo è il senso, diciamo, di qualcosa che si avvicina. Nulla è senza un fondamento. Ecco, questa parola, tra l'altro, questa frase, non ci arriva dall'Oriente, ma dall'Occidente, da Leibniz. Un Leibniz molto rinvevuto, diciamo, dello spirito cinese, delle scuole buddhiste, che poteva conoscere, tra l'altro, attraverso questi tesuiti che ne parlavano. Questo Leibniz, quindi, che dice, nulla è senza fondamento. E nella mentalità, diciamo, occidentale, questo mi viene colto. Il fondamento c'è sempre. Il fondamento c'è, in tutti i casi. Poi c'è questa lezione, diciamo, di Heidegger, che questa serie di lezioni, appunto, sul principio di ragione, dice, ma quello che lui vuol dire è che il nulla non ha fondamento. E su questo sviluppa un suo discorso. Nella seconda posizione, comunque, per restare alla seconda posizione, non c'è niente da capire. Ora, questo niente da capire ci rende liberi oppure no? Cioè, come possiamo credere? Era, come ripeto, uno slogan degli anni Sessanta. Negli anni Settanta si è andati, se possibile, ancora oltre. Perché sulla base di questo non capire, parlo adesso della cultura poppa, chiaramente. Si è giunti a quella che era, diciamo, una parola d'ordine della consapevolezza che nasceva dalla musica dei Sessanta. Parliamo dei Beatles in India, per esempio. da Krishnamurti, che era una delle figure che proprio in quel periodo, almeno nel nostro occidente, nella nostra parte dell'Occidente, si cominciava a far sentire. Noi siamo sempre molto attaccati, diciamo, dall'Occidente e altro. Quindi, da quelle cose arrivano dopo, ma questo non è importante, diciamo, per quello che voglio dire qui. No guru, no mentor, no teacher. Ecco, questo era, diciamo, l'orizzonte diverso. Non guru, perché anche l'esperienza di Beatles lo mostra, no? Cioè, non c'è il guru. Noi non possiamo affidare a un altro il compito di dirci come dobbiamo vivere, ovvero quale può essere per noi il senso della vita. No metodo. Non possiamo neanche credere che esista un metodo, che sia lo yoga, lo zen, il treno autogeno o altri, che possa farci capire qualcosa, insomma, perlomeno del mundo, del nonsense. No teacher. Guai a qualcuno che, essendo guru, volesse presentarsi come un maestro. E, come vi ho detto, c'è questa figura di Krishnamurti che lo dice più di altri. Insiste più di altri su questa componente. Non c'è da cercare. Lui lo dice con molta chiarezza. Quindi, io l'ho cercato per tanti anni, per tante vite, appunto, perché anche quella è una risoluzione che finché è sentita è molto reale, al pari della credenza dell'inferno o gli altri piani di coscienza, post-mortem. E colui dice, appunto, io ho fatto tante ricerche, mi sono mosso in tanti ambiti, però non ho trovato nulla. E proprio questo nulla è il mio punto di forza. Non c'è niente da comprendere. Chi gli dice altro è qualcuno che vede, cioè qualcuno che gioca con la vostra vita, come i preti cristiani nel Medioevo o quelli ebramani nel mondo indiano, per non parlare, diciamo, dei conflucianti cibi. Insomma, diciamo che ogni cultura è il Dalai Lama, il Tibet. Insomma, diciamo che ogni cultura ha sempre avuto le sue figure, diciamo, del senso. Ecco, quelle che si sono rappresentate come figure del senso. C'è stata questa forte reazione da parte di queste figure. Cioè, quando a queste figure qualcuno dice, magari anche a voi, a me, in certi momenti, a tutti noi, nella nostra vita, quando qualcuno dice, ma guarda che non c'è nulla da comprendere, quindi lo studio può avere un grande valore, qualsiasi cosa, l'etica, può avere un grande valore, ma sempre nel senso che ciascuno si dà, appunto seguendo questa formulazione dei panni. Ecco, sembra invece che queste figure, per versi diversi, dove la frase significa, ovviamente, due e più cose, queste figure cercano proprio di non far cogliere questo mondo che inevitabilmente verrebbe fuori se fosse valida la sponga di posti. Cioè, non c'è nulla da comprendere. Quindi, il nudo, c'è solo il nudo. Allora, qualcuno è come se dicesse, guardiamo un po' dietro a questo nudo che altro c'è. Un po' come quando il protagonista del film, The Truman Show, interpretato da Tim Curry, a un certo punto si accorge che tutta la sua vita è un insieme di illusioni, tutto uno scritto congegnato da altri. Allora, qui comincia ad andare a... ritroso, diciamo. Cioè, torna indietro, torna indietro. Come se cercasse un punto in cui c'è questa troupe immaginaria che sta girando il film. Torna sempre indietro. Finché a un certo punto trova uno schermo che potrebbe essere la configurazione del vero di maglia, tranquillamente. Con la sua macchina buca questo schermo. Ovviamente, nel film c'è un qualcosa dietro lo schermo, ma l'intento del registro di chi ha scritto la storia è che questo schermo sia il punto limite. Cioè, non c'è altro oltre il punto limite. Ecco, sto per concludere. Quindi ancora di attenzione o comunque di disattenzione mirata. E in questo senso, quindi, queste figure di difetto, diciamo, lo establishment, che possono assumere diversi quali, che è vericare, non politici, non esistenziali, non, insomma, di qualsiasi tipo, non esistenziali. Queste figure sembrano presentarci, in termini che ho scelto, come esorcisti del mondo, perché fondamentalmente fanno questo, cioè questo mondo...